Un nuovo passo in avanti verso la realizzazione della Casa di Comunità all'interno dell'ex circoscrizione Viareggio Nuova, dove si trova l'hub vaccinale dall'inizio delle campagne di vaccinazione anti-Covid. L'amministrazione comunale ha infatti siglato insieme alla ASL un contratto di concordato gratuito per 50 anni della parte di fabbricato di proprietà del Comune di Viareggio. La realizzazione della Casa di Comunità da parte della ASL per un importo complessivo di 300.000 euro sarà resa possibile grazie ai fondi che l'azienda ha ottenuto dal PNRR. C'è un contributo PNRR ottenuto dall'ASL per l'implementazione di una serie di case di comunità e noi ne vogliamo fare una a Viareggio, per questo abbiamo messo a disposizione la metà di quell'immobile perché metà era già dell'ASL, per creare la Casa della Comunità. E quindi dentro quell'immobile verranno fatte prestazioni specialistiche, prestazioni di distretto, comunque ci saranno delle aggregazioni mediche e lavorerà in perfetta sintonia con l'ospedale di comunità che creeremo in un immobile vicino al Tabarracci e soprattutto l'ospedale. Quindi una soluzione integrata di sanità territoriale ospedaliera, credo di grande innovazione a Viareggio.